buon pomeriggio amori miei ciambelline e ciambellini miei oggi non sarà un video smr ma bensì un video di make up tutorial ho deciso di mettere lo stesso il mio microfonino il mio lavalier per una qualità sonora una qualità di suono migliore spero e spero non mi sentiate troppo forte prepotente ma andrò a comunque modificare l'audio ad abbassare magari l'audio su quando vado ad editare rispondo ad una delle vostre domande che mi fate frequentemente sia su youtube che sotto i miei video di youtube qui e sia sotto i miei video di tik tok come faccio ad avere una pelle così perfetta piccola parentesi sono nella camera di mia nonna sempre la stessa però in una diversa posizione perché sono appoggiata sulla scrivania quindi un po diversa la posizione rispetto lo sfondo è diverso rispetto a quello degli smr visto che un video di make up mi serve il cellulare molto più vicino visto che registro col cellulare non avendo una fotocamera purtroppo scusate il look anni 50 anche con i miei riccioli e il mio fermaglietto anni 50 ma ho bisogno di qualcosa per tirare i capelli indietro per non sporcarli ovviamente quando mi andrò a toccare a make upare e niente stavo dicendo molte di voi mi chiedete come faccio ad avere la pelle così perfetta che bella pelle che hai anche se per me non è assolutamente perfetta questo qui è giorgetto che ho appena schiacciato poco fa appena ho deterso il viso tonificato messo la crema voglio esservi sincera voglio essere sincera completamente io non faccio sempre non sono una fanatica della skin care o meglio adoro i prodotti skin care buoni di ottima qualità e essendo una make up artist ma io su di me non pratico una skin care continua frequente perché sono molto pigra ho una pelle mista cioè nella zona t è grassa e qui è molto secca tutto il resto del contorno diciamo a treno qui formando un tre è molto secca mentre naso mento e fronte e anche qui tra le sopracciglia è molto grassa molto grassa no è un po impura non grassa quindi ho la pelle mista nella zona t è impura e intorno è molto secca quindi preferibilmente uso creme idratanti buone buone cosa uso durante la mia skin care non quotidiana non lo faccio sempre tutti i giorni uso un detergente per lavare il viso ovviamente questa è una piccola parentesi prima di iniziare a truccarci ed andare a fare più che un make up viso un make up full face andremo a concentrare concentrarci più sugli occhi e faremo un foxy eye bello intenso bello intenso e quindi mi viene un po strano parlare normale non in smr quindi vi andrò a spiegare un attimo io cosa uso pre make up a truccarmi mi trucco tutti i giorni ma fare la skin care non la faccio tutti i giorni allora qui ho il mio specchietto come potete vedere ho il mio specchio preferito dove mi trucco che fa anche un riflesso mamma mia si vede proprio mi vedo in pieno ok va bene non fa niente comunque dopo serò questo specchio per andarmi a truccare ovviamente a far venire un trucco decente oggi oggi ho usato di solito alterno come ho usato questo perfect cleansing oil di ciseido scusatemi la pronuncia in inglese ma non so parlare assolutamente in inglese chi mi conosce lo sa ho usato questo qui di ciseido con la pompettina è usato questo che è un detergente viso in olio non unge ottimo fresco idratante al massimo o altrimenti altrimenti uso molto spesso acqua alle rose questa mousse detergente viso che è carinissima vi faccio vedere subito in pratica qui sopra l'erogatore è a forma di rosa uno preme sopra qui ed esce una pallina diciamo un cerchetto a forma di rosa perché proprio l'ingrediente principale e la rosa ovviamente di tutti i prodotti di acqua alle rose di roberts e uso questo anche per deteggere il viso solitamente uso solo il detergente viso oggi ho messo anche il tonico e come tonico uso sempre questo qui acqua alle rose questo tonico rinfrescante ottimo io questi prodotti li adoro quando solitamente faccio un pochettino di skin care perfetta uso anche questo gel esfoliante quotidiano sempre di acqua le rose non è uno sponsor non è pubblicità magari mi la roberts mi chiedesse di collaborare ma purtroppo non è una pubblicità tutto comprato da acqua e sapone acqua alle rose sempre questo gel esfoliante quotidiano purificante sempre molto fresco molto molto leggero ha dei granelli non invadenti per la perché avendo una pelle non devo essere sincera non difficoltosa non brufolosa non non problematica quindi sono tranquilla uso quello lì tolgo le varie impurità specialmente nella zona t le altre parti lascio un po perdere perché sennò subito mi arrosso subito divento un peperoncino e come struccante cosa uso ho delle salviettine della sien tranquille proprio su tutto il viso o sensitive o rinfrescanti idratanti della sien che mi trovo benissimo che le prendo al lidl al lidl o lidl perché mi hanno massacrata perché ho detto in un video smr su tik tok lidl noi qua diciamo lidl che presi dei tramezzini al lidl noi qui diciamo lidl c'è chi dice lidl la pubblicità che dell'idol dice lidl quindi diciamo lidl per non essere massacrata su una cretinata diciamo adesso sto finendo dopo aver saputo che il progetto averlo fatto per tanti anni ho fatto per tre anni due anni e mezzo ho fatto la consigliera di bellezza per iva rocher dopo aver lavorato con loro e per loro pensando forse cruelty free non è così ho scoperto che non è così quindi ho buttato regalato regalato la maggior parte delle mie cose e quelle là che stavo finendo era un peccato buttarle e quindi poi il mio fidanzato questa qui non è neanche adatta alla mia pelle perché per pelli grasse è la linea sebo vegetal e il mio fidanzato si fece prendere un set completo di questa linea sebo vegetal e poi se non me lo fai tu se non mi fai tu la skin care io non la uso perché non ho tempo ed è rimasta acqua la sua skin care ogni tanto gliela faccio si fece prendere l'acqua micellare per pulire il viso questo è un'acqua micellare purificante due in uno per pulire il viso e quindi e io mi conquista mi strucco diciamo si fece prendere quest'acqua micellare una maschera all'argilla sempre sebo vegetal comunque altre cosine che ho là dentro quasi inutilizzate perché noi ogni lui abbiamo tempo di io non ho tempo di potergliela fare ecco come lui lavora anche io lavoro youtube il mio lavoro e poi un altro lavoro oltre youtube non è solo youtube e comunque adesso non vi ho fatto vedere tutto no assolutamente noi sono un po cosmemorata comunque per struccarmi uso questa questa acqua micellare al momento se no uso l'acqua micella micellare della l'oreal pari oppure latte detergente l'oreal pari che mi trovo benissimo 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 se no altrimenti ho il cassetto pieno di salvette struccanti per fare una cosa un po più veloce della si e poi di sera perché questi sono prodotti diciamo prodotti specifici sono creme proprio per la sera diciamo tipo maschera o uso questa qui della hello body coco soft detox night face lotion questa qui molto ricca molto bella lascia la pelle morbida e fresca oppure uso questa qui quindi overnight cream 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 e mask della sciseido che è un campioncino sempre della sciseido e non mette a fuoco ma vabbè oppure uso questa che è leggiamo dietro creme e maschera notte effetto luminosità molto fresca molto molto glowy ha tanto glowy al suo interno ed è molto bella io mi trovo benissimo quelle rare volte che lo uso infatti questo è quasi pieno questo burro comunque mi vado sempre di fare così sempre per me è strano parlare ad alta voce registrando un video io ho già preparato non ho preparato la mia base ma ho fatto riempito un po le sopracciglia ho messo la crema indratante e ho messo un balsamo labbra idratante e il contorno occhi come contorno occhi uso questo wild rose eye cream della sien che mi trovo benissimo rinfrescante bello alle rose io adoro i prodotti alle rose poi come diciamo gloss ho usato questo della revolution che è idratante un gloss idratante un balsamo labbra idratante della revolution perché ho le labbra molto secche e come crema questa è ottima è il miglior acquisto che ho fatto anche se costa un po' ho comprato questa crema della colistar idroattiva crema gel e idratazione fresca ho preparato la mia base e le sopracciglia le riempio sempre con la stessa palette che non posso fare a meno con della del prodotto in polvere all about brow di douglas 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 comunque questo è qua ora ve la faccio vedere all'interno però mi sembra già che ve l'ho fatta vedere è consumatissima devo ricomprata però c'è il prodotto all'interno questa è tipo sop brow tipo ma non è sop brow è molto non mi piace questa non mi piace è setting wow si chiama setting wow brown powders e highlighted wow questo questo qui io lo metto sotto il bianco poi qui è highlighter sempre per sotto l'arcata sopraccigliare però non lo uso uso di più questo per pulire diciamo però le mie sopracciglia le mie sopracciglia sono abbastanza abbastanza cioè sono perfette così devo dire la verità tolgo solo l'eccesso io con la pincettina torno torno e poi riempio questi spazietti vuoti con questo colore più scuro ok il pennellino sta dentro l'avete visto stavo controllando ho fatto vedere tutto quindi iniziamo 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 allora sulla palpebra andrò io non trucco mai prima il viso ma trucco sempre prima gli occhi sulla palpebra andrò a mettere questo concealer della max fatto coverage nella tonalità shade 030 mi trovo benissimo e andrò a metterlo un po sulla palpebra come primer come primer vado con questo fix in spray green tea della i love revolution di revolution che io adoro 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 questo è già il secondo andrò a spruzzare la mia spugnettina love eggs sono morbidissime che mi sono state regalate dal mio fidanzato durante la pandemia e me le ha portate quando ci siamo rivisti il 4 maggio queste spugnette sono morbidissime facile da lavare e prima che si secca il correttore vado a picchiettare tutto il prodotto su tutta la palpebra scusate se quando metto il correttore o mi trucco faccia delle facce orribile ma non posso evitarlo ecco qua così abbiamo creato la base occhi io mi trovo così mi trovo cioè su di me ma anche sulle clienti lo faccio è trucco sempre prima gli occhi perché non mi va poi di sporcare la base e non mi va di incipriarmi tutta quindi anche perché adesso non andrò ad utilizzare specialmente sul viso non andrò ad utilizzare ciprie mi seccherebbero troppo la pelle né in polvere libera né in cipra compatta perché mi seccano troppo la pelle sono sincera e andrò ad utilizzare non un fondotinta ma bensì una bb cream esattamente una bb cream della maybelline new york buonissima colorazione light satin bb si chiama andrò ad utilizzare quella ora per aiutarmi con il foxy eyes a farlo a farlo venire più preciso io vado ad applicare qui queste due mezze lunette che mi aiuteranno a non diciamo a fare un perché sarà un foxy eyes effetto il liftato occhio effetto occhio liftato diciamo bello tirato tipo cat ai tipo occhio da gatta occhio da gatta e quindi cerchiamo di metterlo preciso in pratica come facciamo a metterlo abbastanza preciso dove finisce la linea della nostra sopracciglia così andiamo ad applicare il guardate così e sotto sotto la riga dell'occhio sotto sotto la fine della dell'occhio del nostro occhio andiamo a fare la stessa cosa anche di qua anche se questa qui è più corta rispetto a questa quindi mi mantengo un poco giusto leggermente è di un millimetro un po più sotto un po più verso la fine della mia sopracciglia perché questa è molto guardate questa qui è più corta rispetto a questa allora mi sono mantenuto ma giusto un millimetro più distante ok bellissimo speriamo l'effetto sia abbastanza uguale di qua e di qua perché solitamente quando metto queste queste mezze lunette non viene mai preciso preferisco aggiustarla col correttore però ci proviamo ci proviamo allora io andrò ad utilizzare due palette questa della revolution non so se si è capito ma adoro revolution makeup adoro la marca adoro il marchio e questa qui è la forever flawless forever flawless è bellissimo al suo interno e quindi andrò ad utilizzare farò un match di due palette andrò ad utilizzare questa perché al suo interno a questo champagne feeder si chiama fede fede comunque questo champagne che andrà ad utilizzare su tutta la palpebra mobile sia la mobile che quella fissa andrò ad utilizzare proprio tutta la palpebra e andrò a prendere i pennelli di nabla che ho trovato e non trovato ok ci siamo andrò a prendere questo set che si chiama ora ve lo dico subito the nude the nude mi sembra the nude eyeshadow diciamo sì nude shadow comunque questi questi pennelli di nabla sono favolosi favolosi li stava conservando per diciamo le clienti però purtroppo in questo periodo di pandemia io non sto lavorando a livello di tutto non sto lavorando quindi detto perché no mi andrò ad utilizzare su di me e le sto utilizzando da poco ma hanno delle setole morbidissime si puliscono subito molto delicate ottime sfumabili al cento per cento comunque andrò a prendere e dentro all'interno di questa pochette ne sono uscite sei diciamo quelli che servono ovviamente per per gli eyeshadow andrò a prendere questo qui è il più piccolo si pointed crease andrò a prendere questo qui molto fluffy guardate morbido 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 no che sono piccoli questo è per la sfumatura no questo no 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 allora andrò a prendere questo qui precision soft crease per applicare il panna su tutta la palpebra morbidissimo fantastico fantastico e andrò a prendere un po di prodotto e lo applico su tutta la palpebra in modo molto tranquillo in modo tranquillissimo due volte faccio diciamo faccio due passate ecco visto che questo qui è quasi pelle su pelle non mi preoccupo assolutamente di essere precisa di andare di precisione quindi vado tranquilla come se fosse un primer ecco anche se nel foxy eyes questo qui non funge da base assolutamente non funge da base ma è un colore primario per il foxy eye diciamo in questa parte della crease in questa parte della palpebra mobile però non andiamo tranquilli non so quanto casino stia facendo il microfono vicino qua però allora poi con un pennellino più piccolo che sarebbe questo qui pointed crease sempre da sfumatura noi andiamo cambiamo sì 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 cambiamo palette e andiamo con la secret palette di nabla una tra le mie preferite eccola qui e andiamo a prendere vediamo tra contigui ghibli prendiamo ghibli che è più chiaro ghibli prendiamo ghibli ho preso due palette perché qui non c'è champagne non c'è questo colore allora perciò ho preso l'altra andiamo a prendere ghibli che è un marroncino chiaro e solitamente in altri in altri e shadow diciamo in altri makeup occhi andiamo a fare un circle motion invece qui andiamo a fare così così andiamo a prendere sulla rima preciso preciso fino a metà non tutto l'occhio e andiamo a portarlo in su e poi facciamo così su giù su giù su giù molto delicatamente io mi guardo nello specchio prima di fare qualche disastro quindi andiamo a sfumare così su e giù questo colore tra la rima sopraccigliare superiore la rima cicliare superiore scusatemi e la fine del nostro occhio andiamo a fare un su e giù con questo colore colore marroncino chiaro che poi tanto tanto chiaro non è però è un bel marroncino più chiaro di quello che andremo ad usare poi per fare per far funzionare questo questo foxy eye così guardate questo è il movimento penso che riuscite a vedere e facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte guardate sempre lo stesso movimento ok poi andiamo a prendere contigo che è un pochettino più scuro di gibli eccolo qua contigo un pochettino più scuro di gibli e andiamo un po' più su rispetto a quest'altro colore diciamolo andiamo a mettere sopra e tiriamo sempre tiriamo sempre verso l'esterno tiriamo 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 e mettiamo tiriamo tiriamo e mettiamo sempre così così vedete andiamo a creare questa sfumatura anche dall'altro lato e 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 poi riprendiamo questo pennello qui più grande e fluffy e andiamo a sfumarlo sempre nello stesso modo andiamo a schiarire un po' il tutto e a sfumare anche dando un'ombreggiatura all'interno dell'occhio così portando anche la sfumatura all'interno vedete se sfumato alla grande questi pennelli sfumano troppo 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 bene e facciamo la stessa cosa anche di là sempre sempre in questo movimento qui e non così sempre su e giù e non circolare sempre non perdiamo questa cosa con questo pennello bello la shine smogger smogger questo pennellino così a lingua di gatto però più piccolo e più piatto più stretto diciamo una lingua di gatto più stretto andiamo a prendere mea culpa questo marroncino scuro 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 questo marrone scuro andiamo a prendere mea culpa e lo andiamo a mettere sulla rima cigliare superiore tirando tipo una linea picchiettando così così guardate e andiamo a tirare sempre verso l'esterno per scurire e fare tipo una riga di eyeliner tipo tanto poi dopo andiamo a sfumare anche questa però diciamo che questo è un colore più intenso guardate viene tipo una riga di eyeliner facciamo facciamo la stessa cosa anche dall'altra palpebra anche perché dopo con il pennellino non quello grande grande fluffy ma quello più piccolino andiamo a sfumare questo è un trucco davvero semplice back to school ci vuole un po' di tempo per farlo però è davvero molto molto semplice molto molto alla portata di tutti molto easy è un trucco easy davvero easy un bel trucco è molto bello il foxy eyes sto portando davvero spesso diciamo che adesso sto facendo un foxy eyes un po' più preciso un po' più diciamo da video altrimenti altrimenti lo facevo un po' più casericcio però mi piace piace tanto sempre con lo stesso pennello e sempre con mea culpa metto proprio sulla punta sulla fine del pennello sempre questo colore mea culpa e lo andiamo a passare sotto la rima inferiore cigliare fino a metà andiamo a riportare riportiamo e ci allunghiamo collegando vedete facciamo la stessa cosa anche dall'altro occhio e ce lo portiamo su collegandoci per dare quell'effetto più intenso più occhio da gatta più da sera diciamo quell'effetto più da make up da sera con l'occhio bello bello intenso non ho voluto usare il non ho voluto osare con il nero e non l'ho voluto utilizzare perché ho questo mea culpa che è molto molto scuro è un marrone scuro molto un caffè proprio chicco di caffè diciamo bello che diciamo mi ha ispirato di più nell'utilizzarlo e quindi ho voluto utilizzare questo qui ma si può fare anche col nero nel senso l'ultima parte si può fare anche col nero ovviamente ok ora sfumiamo sopra con questo pennellino qua prendendo giusto un po' di mia culpa ma pochissimo e la andiamo a sfumare preciso preciso così e ci portiamo anche un po' all'interno il colore anche un po' all'interno non troppo un po' all'interno dopo all'interno dell'occhio andremo ad utilizzare anche una matitina marrone perché abbiamo utilizzato questo marrone quindi andremo ad utilizzare una matitina marrone e ci fermiamo a metà sfumando sfumando ci fermiamo a metà non andiamo su tutta la palpebra ovviamente su tutta la crisi sfumiamo sempre diritto diciamo arriviamo fino all'osso l'osso sotto al sopracciglio l'osso dell'occhio e ci fermiamo non sfumiamo mai mai così sempre dritto ripeto ripeto ora andremo a riprendere questo qui lo sto pulendo un poco dal marrone e riprendiamo la palette della revolution e riprendiamo il colore champagne e piano piano lo picchiettiamo picchiettiamo all'interno del nostro occhio della nostra crease per dargli un'intensità maggiore del colore che abbiamo messo come base perché quello deve essere quello deve restare unico e solo colore di tutta la palpebra unico e solo colore chiaro di tutta la palpebra senza aggiungere shimmer senza aggiungere niente per questo penso si chiami foxy eye proprio perché da quell'effetto molto naturale dell'occhio molto easy molto da gatta allungato è adattissimo perché ho l'occhio piccolo diciamo non l'occhio l'occhio è grande ma la palpebra è piccola palpebra stretta quindi ottimo davvero ottimo perché ha la palpebra come la mia molto piccola la dà tantissimo ad allungare ad allargare ad dargli una certa ampiezza è molto molto bello io lo adoro adoro questo make up sinceramente andiamo a togliere a vedere il danno andiamo a togliere perché poi c'è tutta la parte viso il mascara e il correttore anche il correttore ovviamente dobbiamo mettere assolutamente nessun danno per fortuna nessun danno sperando che incrociando le dita che siano uguali gli occhi incrociamo le dita vediamo qui quindi vabbè se la non si è sfumato fino e sopra lo ok ahia questo si è appiccicato ok abbastanza uguali sono stata fortunata ora vi faccio vedere l'effetto da vicino mentre aggiusto un pochettino il tutto diciamo che voglio andare a collegare questo pezzettino qua che non si è collegato bene 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 voglio andare a collegare questo pezzo di qua si è collegato benissimo il sotto con il sopra andiamo a sfumare un altro pochettino 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 con questo sempre questo pennellino qui e non voglio toccare assolutamente questa sfumatura fantastica che è uscita perché assolutamente non voglio toccarla non voglio intaccarla assolutamente per carità e ora vengo più vicino e vi mostro vi mostro è bellissimo penso l'effetto e questo è il foxy eyes effetto allungato adesso cosa andremo a fare andremo a prendere la matitina marrone andremo a mettere all'interno dell'occhio con questa matitina marrone l'occhio si aprirà ancora di più fidatevi fidatevi di me fidatevi di ciò che dico ora andremo a mettere all'interno dell'occhio all'interno della rima inferiore cigliare poi che cosa facciamo andiamo a fare una puntina esterna un allungo esterno leggero leggero tipo lacrimetta così guardate una puntina guardate così da allungare anche l'interno dell'occhio così e ora andiamo a collegare un pochettino anche guardate bello piace tanto così si allunga anche l'interno dell'occhio insieme all'esterno poi poi passiamo al mascara ora il mascara io uso il Monsieur Big di Lancome io adoro la Lancome però lo vado a pulire con un pennellino piccolo dopo perché è troppo prodotto ha uno scovolino bellissimo cicciotto cicciotto ma troppo prodotto e quindi vado delicata ecco mi sono sporcata cavolo io vado molto delicatamente molto delicatamente sulle mie ciglia sulle mie ciglia vado molto delicatamente specialmente per non sporcarmi poi quelle inferiori le vado a passare con l'altro pennellino di mascara finito di Make Up For Ever però ci vado molto molto soft non vado a fare zig zag e up perché è troppo prodotto solo che lo adoro è molto riempitivo molto allungante anche se ho una ciglia molto bella andiamo ad aggiustare un attimo questo guai no, le andiamo prima con questo qui di Make Up For Ever finito un pochettino solo sporco excessive lash excessive lash excessive lash pennellino piccolo piccolo vado ad aggiustare e a togliere un po' di prodotto perché è troppo e vado a fare zig zag e up zig zag e up zig zag e up zig zag e up io non uso mai su di me le ciglia finte perché come potete vedere non penso di averne bisogno e poi non le amo particolarmente sono sincera non le amo assolutamente vado a pulire questo disastro un pochettino di disastro e non tanto col pennellino e mi ero sporcata un po' col mascara ma tutto a posto pulito l'effetto del mascara del Monsieur Big è questo penso sia fantastico oggi un po' la pelle arrossata un po' vulnerabile al tempo un po' vulnerabile anche a me perché perché sto un po' così stanno ottimano ho dormito e non sto benissimo poi si avvicina a quel periodo si sta avvicinando e quindi sono anche un po' questi qui che vedete sono questo era un brufolo che ho schiacciato questo era Giorgetto che vi ho detto all'inizio e qui non lo so sfoghi di pelle e poi tutto il resto sono morsi di zanzara vi ho detto tutto questo questo che ho nel lato questi in fronte sono morsi di zanzara comunque adesso ci andremo ad occupare del del coverage riprendiamo il Max Factor Concealer e vado ad applicarlo qui faccio tipo una specie di V e poi mi allungo verso l'esterno vado a coprire alcune imperfezioni le vado a coprire però per coprire bene anche perché usando la BB la BB che uso io è light e non copre un un granché copre ma non un granché quindi vado di correttore io lo metto solitamente qui mi vedete dove lo metto un po' ovunque io uso il correttore un po' ovunque adoro i correttori vado a bagnare sempre la mia spugnetta un pochettino io adoro i correttori salmonati con una percentuale di giallino e rosso rosa comunque color salmone pescati salmonati io le adoro comunque questo è il momento correzione per me molto importante anche se solitamente sui brufoli vado di dita adesso sto andando a picchiettarli con la spugnetta questi baby hair che mi vanno davanti non si fanno i fatti loro ad esempio questi qua io faccio così li picchietto con le dita e sfumo picchietto e sfumo anche qui però io vado anche nei laterali del naso bene bene a fare la correzione in fronte perché questi morsi di zanzara vanno coperti e andiamo anche bene bene sotto il contorno occhi a picchiettare mi raccomando specialmente sotto gli occhi non tirate mai il correttore andate sempre di picchietto picchietto picchia picchiarello picchia pazzerello andate sempre a picchiettare picchiettate sempre non tirate mai io adesso non ho bisogno di pulire perché la linea è perfetta quindi giustamente ho applicato apposta apposta ho applicato apposta le lunette per non andare ad aggiustare con il correttore e per fare un'applicazione più omogenea più precisa più precisa non omogenea picchiettate picchiettate non tirate mai mi raccomando perché andrete a rovinare il vostro contorno occhi e noi non vogliamo questo perché ad esempio a me è molto scuro per questo su di me preferisco un correttore salmonato o pescato perché va a coprire il e con una puntina di giallo perché va a coprire l'ombra scura della mia occhiaia stanca del mio occhio stanco e occhiaia stanca occhio e occhiaia molto stanca poco riposata soprattutto molto poco riposata perché io non dormo un gran che dopo aver fatto tutta la nostra correzione andiamo con la nostra BB questa non c'è il perché l'ho tolto io mi sta anche finendo la devo comprare è la Maybelline New York BB Satin colorazione light mi ricordo benissimo io la metto su questa spugnetta questa beauty blender nera sempre della love eggs che vi ho detto prima e metto così faccio tic tac tic tac così e picchietto e mi faccio prima un lato e poi l'altro mi faccio prima tutto questo lato scusate se vedete il riflesso dello specchio ma purtroppo è così e vado anche sulle orecchie alla Belen Rodriguez visto che anche lei fa i tutorial make up bravissima soprattutto bravissima oltre che bellissima eppure bravissima che gli vogliamo di niente io vado a picchiettare da questo lato poi anche dall'altro in maniera molto leggera e anche con la BB cream faccio lo stesso gioco riguardo il picchiettare carmi miui che è il mio make up artist youtuber preferito direbbe tamburellare quindi andiamo a tamburellare anche noi io lo adoro è bravissimo è simpaticissimo e lo vedo una bravissima persona a parer mio anche non conoscendolo una bravissima persona non ci dimentichiamo il collo anche se questa guardate effetto seconda pelle poi ci andiamo ad aggiustare il tutto cioè ad aggiustare a dargli un po' più di colore con il contouring in polvere sempre in polvere quindi il fiato quindi dopo aver fatto steso la nostra BB andiamo di contouring la palette sotto gli occhi e io non la vedevo io vado con la portrait di Cosmify di Eric Chioba in collaborazione con Cosmify e adoro l'adoro questa palette l'adoro consigliatissima è la senza titolo numero zero bellissima bellissima è l'unica con cui faccio il contouring ho anche i suoi pennelli però non li ho presi perché non li sto utilizzando sono nuovi sono ottimi pennelli viso di Eric Chioba hanno anche la basetta con le calamite perché il pack è madre perle e sottoporta una calamita che va attaccata sopra a una basetta di metallo bellissimi però io ho questi qui qui dentro miei che uso quotidianamente non saranno pennelli ottimi però quelli la me li tengo più preservati sono sincera sono sincerissima più sincera di me si muore andrò anche a rimpicciolirmi un pochettino il naso sarà lunghissimo questo video lunghissimo e lo sento con questo pennello qua andrò a rimpicciolire il naso a fare il contouring al naso comunque andiamo prima di contouring spruzzo sempre il pennello poco poco scarico l'acqua perché sennò è troppo e prendo faccio un mix di dinamo e zang tum tum mix perché questa è una terra fredda e questa è una terra calda quindi io faccio un mix adoro di più la terra calda però e poi vado qui qui mi vado a guardare dentro lo specchio perché no faccio un casino mettere un po di più qui macella macellone e vado a sfumare così pesciolino così così io non amo i contouring in crema assolutamente amo i contouring in polvere quindi vado qui oppure sulle orecchie sulle orecchie già ci siamo già ci troviamo e poi diciamo a conclusione formiamo un 3 così per amalgamare e sfumare meglio così formiamo un 3 andiamo anche sul collo ma sì ovvio 3 e scendiamo sul collo lungo il collo però andiamo a sfumare bene bene il nostro contouring non andiamo a dare quella effetto pesante assolutamente vedete non è assolutamente pesante anzi questa è una palette di contouring ma bellissima leggerissimo è un contouring molto leggero molto di effetto ma leggero anche se questi pennelli fanno però andiamo avanti sono i pennelli che uso quotidianamente per esempio andiamo di blush e andiamo con questo 504b g j e io vado picchietto anche sul nasino e mi allungo di qua picchietto non ne metto tanto mi allungo così e poi sfumo 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 anche se questo pennello punge io sfumo 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 ok spero che con questo microfono non si senti un casino questo microfono addosso avrei dovuto attaccarlo da qualche altra parte ma comunque andiamo avanti ok guardate molto bello molto bello molto piace dopo mi faccio vedere più verso la luce non con la ring light perché ho sia la luce qui che la ring light quindi spengo la ring light e vi faccio vedere l'effetto finale e metto un po' di new horizon che è questo highlighter bellissimo questo illuminante favoloso e lo vado a mettere qui un po' anche qui anche di qui un po' qui un po' qui bellissimo bellissimo a fare il contouring al naso guardate quanto è bello questo illuminante lo faccio vedere dopo meglio allora vado a prendere questo e faccio il contouring solo con la terra calda il contouring al nasino parto dall'attaccatura delle ciglia delle sopracciglia e faccio il contouring al nasino così il mio contouring al nasino è così e adesso con il pennellino sempre da questo qui andiamo a fare circle motion e a sfumare il contouring al nasino lo stringiamo un po' così tra le mani per andare ovviamente qui nei punti strategici dove c'è più prodotto e andiamo a sfumare guardate l'effetto molto bello il nasino subito si rimpicciolisce non ho un nasone però neanche lungo e ho un naso un bel nasino però mi piace fare il contouring al naso quindi lo faccio ben volentieri e vado con il mignolo a prendere l'highlighter e vado a metterlo qui e qui così punta del naso osso del naso guardate che bello con questo qui faccio qui ecco qua bello le labbra mi mantengo visto che poi devo scendere devo andare al lavoro dopo tutto ciò le labbra le lascio belle semplici 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 anche perché il trucco è abbastanza strong quindi le labbra saranno se lo trovo saranno con un gloss anzi con un long lasting liquid lipstick della wicon cosmetics numero 27 nude è un nude bello molto bello eccolo qua è una tinta labbra che poi penso andrò a rimuovere bello bello non metto matita non metto niente perché va bene così mi piace tanto così e stacco e vi faccio vedere il risultato alla luce naturale senza ring light arrivo e vi saluto amori e ciambelline e ciambelline mie spero che questo primissimo makeup tutorial del mio amore che ci sono canale vi sia piaciuto e vi saluto mi mando un forte kiss e ci becchiamo al prossimo video un bacione